Mi chiamo Giussi, ho due patologie croniche e vi spiego perché per me il Covid è ancora un rischio. Da circa 15 anni soffro di due patologie croniche. La sindrome di Becet è in concomitanza una sindrome fibromialgica. Sono due patologie croniche caratterizzate, una da un'infiammazione importante dai vasi sanguigni, l'altra da un dolore cronico muscolo-scheletrico ed un'alterata percezione del dolore. Già dal 2020, quando il virus era abbastanza aggressivo e mortale per parecchie persone, sono stata colpita, ma anche negli anni successivi, quindi per ben tre volte mi ha colpito il Covid. Sono stata male, è malissimo. La malattia ha purtroppo riacquotizzato tutta la sintomatologia della sindrome fibromialgica, per fare un esempio, ma anche ha portato più infiammazione al mio corpo, sviluppando maggiormente le problematiche della mia sindrome di Becet. Quindi se da un lato avevo raggiunto un equilibrio con le mie terapie, che però purtroppo mi rendono una persona immunodepressa, dall'altro lato l'attacco del virus ha scompensato e ha distrutto quell'equilibrio, creandomi problematiche importanti, sia da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista psicologico, perché la malattia mi ha colpito anche da un punto di vista emotivo. Anche il fatto di non poter stare con i familiari, dopo ben quattro mesi ho potuto vedere qualcuno, e quindi quello stato di isolamento mi ha creato smarrimento, mi ha creato angoscia, mi ha creato paura. E le malattie, naturalmente, mentre da un lato per il mio essere una persona positiva e sicura nell'affrontarle, sono diventate veramente un vero pericolo, anche per la mia mente, perché lo stato di depressione, di ansia e di paura ha invaso talmente la mia vita e credo che è qualcosa che mi porto ancora oggi, perché basta un ricordo, un pensiero che fa venire fuori quello stato di angoscia importante. Diciamo che il problema del Covid è come se fosse ancora dentro di me, perché mi porto dietro a una situazione di long Covid, non indifferente, una stanchezza e un affaticamento cronico, poi c'è anche dei disturbi, purtroppo polmorari, che mi sono rimasti, che mi portano a dover controllarmi spesso, a una propria sofferenza che si aggiunge alle problematiche delle mie due patologie, quindi è una realtà che purtroppo rivivo quotidianamente. Cosa mi aspetto per il futuro? Sicuramente che allontano più possibile i problemi che il Covid mi ha lasciato, ma nello stesso tempo che riesco a dimenticare totalmente la sofferenza psicologica che ho vissuto e il fatto che di essere una persona immunodepressa e debole non mi dirà la paura, l'incertezza di stare in mezzo agli altri, cioè a fare in modo che la gente abbia più responsabilità, più attenzione per noi persone fragili, perché siamo lì pronti a prendere sempre la qualunque cosa. E soprattutto che l'esperienza che abbiamo tutti quanti vissuta, chi è se è malato, chi no, ma comunque per la complessità del periodo non venga dimenticata e che si dia più attenzione a quello che effettivamente è importante.